Vuoi parlare con Billy? Sicura? Qua che è brava! Ok! Hai imparato bene la nostra lingua? Ciao Ferrenichi! Come stai oggi? Vogliamo dei belli libri per la prossima isoletta E non abbiamo voglia di aspettare un'oretta Guarda! E ragazzi, come va? Io sono Ferrenichi E io sono Steph E chi sei Gigi che è ma? Minecraft! E siamo tornati sulla Skygrind Ci hanno consigliato tantissime cose Le voglio dire subito prima di iniziare il video Prima di tutto abbiamo sistemato la casa E come vedete non piove più Esatto È stato faticoso abbiamo dovuto alzare tutto di uno In modo tale da avere due blocchi Tra l'acqua e la nostra casa Però finalmente non c'è più la pioggia Ed è già una bella cosa Un pochettino qua c'è però Un pochettino, un pochettino Perché ragazzi qua c'è la coltivazione Però dai, almeno abbiamo sistemato tutto E coperto il nostro fake amoroso Esattamente Poi cos'altro c'è da dire? Allora, prima di tutto La missione di oggi Che andremo di sicuro a fare È quella di craftarci l'armatura in pelle Quindi purtroppo dovremo ammazzare qualche mucca Ci dispiacerà tantissimo Ma dobbiamo fare Io non lo voglio fare Farò io il lavoro a forco Ok, perfetto Ci penso io E una cosa fantastica che ci hanno consigliato È di combinare quattro blocchi di andesite Per creare un blocco di andesite Che è molto più carino rispetto a questo Vobbio che abbiamo messo Esatto, volevo proprio arrivare lì Perché è uno dei consigli che ho preferito Perché ovviamente quando si parla di migliorare l'estetica di qualcosa Io sono sempre pronta Infatti sono stata felicissima Non vedevo l'ora di parlarne Non ho ancora visto niente Quindi non abbiamo ancora fatto nulla Lo faremo in questo episodio Cercheremo di migliorare ancora di più il nostro refugio Se vuoi puoi farlo al volo Poi io vado a lavorare con le mucche Allora Sei calma Sì Sì Sta saltando ovunque È impazzita Allora Qui c'è l'andesite Vieni Nella cesta è grande No, prenditela Ma neanche tu Neanche tu Ma prendi Ne ho una in mano La mia unica che ho in mano Allora, me la stavi rubando, vero? Ok Allora, tutto qua devo riempire? No, quattro Quattro blocchi Quindi così? Sì Shift click Sì, lo so che shift click un attimino Ma è troppo carina Ok, tipo Ti buco qua No, aspetta Magari farlo dall'altra parte Anzi, prendi anche il piccone Sì, sì Bravo, bravo, bravo Ok, vai Eh, guarda Eh, sì Sì, sì, sì Decisamente meglio Dammi il piccone, scusa Ok Devo fare una cosa importantissima Allora, facciamo così Ascolta Stai calma Calma Lo so che impazzisci quando c'è da modificare la casa Ma calma Allora Io ti lascio Dammi il piccone Io ti lascio il piccone Tu modifichi come vuoi esteticamente la casa Ok In questi blocchi Scegli tu dove, come metterli Quanti metterli Pesso di modificarla tutta Ok Ok, fai quello che vuoi Grazie Io vado a fare il lavoro sporco con le mucche Ok Ci sto Ci sto, ci sto Mi lasci la parte che preferisco Quindi sono felicissima Così va super bene Allora Quindi mi prendo il grano Questo, vabbè Non mi serve Qualcosa con cui uccidere le povere mucchine Un'ascia Ok Proprio di cattiveria Povere mucche Di cattiveria Eh, vabbè, dai Dobbiamo andare avanti Sono curiosissima di vedere come sarà la nuova isola Sperando poi che non ci Esatto Che non ci buchi altre parti Distruggendo esatto Qualche altra parte di tutta la nostra costruzione Quindi speriamo Bene La fai anche a me l'armatura La voglio anch'io Anche se ne serve solo una Però la voglio anche Ma così ammattiamo il doppio delle mucche Ma è carina No Te la faccio in ferro Ok, non mi puoi fare l'armatura Ho capito Te la faccio in ferro in futuro Sei una persona terribile Non sono io terribile Sei tu che vuoi ammattare le mucche per una cesta Ve lo ricorderò Ve lo ricorderò, grazie Ok Allora, mucchine Mangiatevi questo bel grano Ok, fate quello che dovete Quante siete? Comunque secondo me Ti dico una cosa al volo Tanto Guarda la formazione di mucche Sono tantissime Sono almeno dieci Guarda un attimo il mio schermo Ok Non è carina farla tutta così È fantastica con questo blocco nuovo di andesite E se lo facessi come l'hai appena fatto In un po' tutte le parti Quindi come se fossero delle colonne Capisci? Sì, ho capito Facciamo che provo Che provo e poi vediamo Esatto, esatto Mucche Scusatemi Stai facendo una cosa terribile Non guardo Non guardo È bruttissimo Per di più non voglio entrare perché Vabbè Ok, che è successo? Devo entrare Devo entrare A fare lavoro sporco Mi vedranno anche i figlioletti Che non mi perdoneranno Uh Ok, sta andando bene Sta andando bene Ce ne sta dando già abbastanza Così Ok, ok Devo diminuire le uccisioni di mucche No, perfetto Mucca Mucca Stai calma Ok Stiamo facendo un sacco di carne almeno Un bistecche di manzo Per una settimana Buono Almeno mangiamo bene Vedi Ci trattiamo anche bene Nel nostro rifugio qua A mangiare proprio capito Bistecche Basta, basta, basta Poverine Non parliamo di questa cosa Forse ho finito Se ho finito così Abbiamo tenuto Cinque mucche Più una piccola Quindi sei mucche vive Ah, non male Non male Sì, 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 sì Non male Sarebbe un buon traguardo Allora Fammi vedere un po' Sta arrivando Così vedo anche un po' Quello che stai facendo Allora Guarda cosa voglio fare Voglio fare delle colonne E poi mettere anche questa parte su Qua forse la levo Non ho ancora deciso Però più o meno questo sarà Mi sta piacendo Vero, vero, è carino È carina come cosa Mi sta piacendo Mi piace Perché alla fine Anche se non è bellissimo Mi piace pure il blocco base Di Andedita Secondo me combinato con quello Con quello migliore Esce una cosa molto carina Esatto Vediamo un pochettino Io faccio questo Tu nel mentre stai facendo la chestplate Sì Ok Però aspetta che mi sto confondendo Ok L'abbiamo fatta Fatto? Sì, immobile Ferma, ferma, ferma Fai una preghierina Speriamo che non ci rompa qualcosa La nuova isola Oh mio Dio Vado Oh mio Dio Vado Oh mio Dio Allora è andata Vedi i buchi? Vedi i buchi da qualche parte? Esco fuori e controllo Cerca i buchi Oddio Allora Mi sembra di no Dov'è? Ah è qui davanti Oh mio Dio Oh mio Dio Vieni a vedere Quanto abbiamo rischiato? È super giusta Cioè Guarda Guarda Vabbè Vabbè Al millimetro Guarda Girati Che succede? Oh mio Dio Che carino Che carino Comunque devo fare una cosa importantissima A finire la casa Quindi non mi disturbare Scusami Per favore Scusami Stai distruggendo l'architetto che immagate Hai letto la prossima missione? Non entrare Ma cosa non entrare? Devo fare cose qui Scusami Sì L'ho letta L'ho letta Craftare una libreria Libreria Bellina però Anche la libreria Vero? Metterla in casa Carina Ma non è quello Che devi pensare Come no? Penso anche a quello Perché ci sono sempre cose fastidiose? Ecco Sì 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 Guarda Non ero salito su Non l'avevo visto Guarda cosa c'è Uh Vedi? Sì 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 Avevamo ragione Benissimo 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 insomma Perché? Che succede? Perché adesso dobbiamo creare una coltivazione di canne da zucchero Se ricordo bene Per fare la cosa con la canna da zucchero Devo fare così Sì Ok Praticamente dobbiamo creare un bordo Della piscina Con la terra Sì 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 Ricordavo bene Ricordavo bene infatti Benissimo Benissimo Io ho finito Io ho finito se ti interessa Oh adesso arrivo Adesso arrivo un attimino Mi sono lasciata prendere un po' la mano Ti dico Hai esagerato? Sì sì Hai sprecato tutta l'andesite? No tutta no Tutta no Ho ancora tanti blocchi Però mi sono lasciata davvero prendere la mano Ho fatto un sacco di cose Aspetta rimetto anche le torce Perché ovviamente si erano tolte Ok Però sono molto soddisfatta Sono molto soddisfatta Ma quello è l'importante Sì almeno la casa è molto più carina È molto più carina È solo una cosa puramente estetica Ti dico la verità Non serviva a niente Ma è fantastica Quello me lo immaginavo Allora Da fuori c'è già un errore Che errore? Vedi che qua manca un blocco Eh ma non mi interessa No vieni fuori a sistemare No Vieni Devo prendere l'andesite C'era più nella cera Immediatamente qua Vai Tipo erano qua giusto? Esatto Sì Più bellino Sì 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 Vieni Ok Adesso non so come risulterà dentro Perché questo lato Vabbè però è carino È carino No sì è più bellina di prima dai È uscita bene Mi piace Mi piace Mi piace Brava Sì grazie Ti stringo la mano Aia Ti volevo dar fuoco con la torta Ti voglio far vedere una cosa Ok ok Cosa? Allora aspetta Affacciati Dove sei Dove sei Dove sei Cos'è questa cosa? È Billy Cos'è questa cosa? È Billy Vedi? Guarda come ti guarda Allora Ti stai già simpatica Che cos'è? Ti racconto Cioè io ti dico che sono Allora Da quanto abbiamo iniziato la registrazione Più o meno 16 minuti E non me ne era accorta Lo so Minimamente Ci passavi vista davanti E rogito Soprattutto picconando la casa Non me ne sono minimamente accorta Che accidenti è sta cosa? Allora ti racconto Perché c'è una mucca qui Si chiama Billy Non è una mucca Qualsiasi Ok E ti spiegherò perché Non è una mucca Ok Non dovrei essere molto convincente Perché questa cosa Non capisco Ti piacerà Allora Io ho pensato Ci siamo fatti un bel rifugio Cos'è che manca Quando hai una bella casetta? Un animale domestico Quindi cosa ho fatto? Mentre non stavamo registrando Sono andato nel recinto Ho aperto il recinto Senza avere il grano in mano E ho aspettato Mentre aspettavo È sbucata Una mucchettina cucciola Perché era piccolina Ed è uscita fuori Questo dimostra Quanto quella mucca Fosse curiosa E volesse esplorare il mondo Domani Perché oggi non avrei il tempo Ti porto una mucca Come animale domestico Visto che dici Che è una cosa plausibile E dormire nel letto Al posto tuo Ok Sei d'accordo? Se si chiama Billy Sì Ok Domani ragazzi Avremo una mucca Come animale domestico Comunque D'ora in poi Billy sarà la nostra mucca domestica E non ti ho detto La cosa più speciale di Billy Oltre ad essere curiosa Sa parlare La vuoi sentire? No Vuoi parlare con Billy? Sicura? Qua che è brava Ok Hai imparato bene la nostra lingua Ciao Ferrenichi Come stai oggi? Rispondi Che si offende Allora Vado a fare altro Perché davvero Questa cosa È vergognosa Ti dico la verità Come hai potuto Prendere una mucca E lasciarla lì da sole Sto qua ce ne facciamo Di una mucca L'isolata Non è colpa tua Deve accettarti Le servirà un po' di tempo Tu continua a restare qua E vedere che piano piano Ti accetterà E ti amerà anche lei Mi spieghi cosa ce ne facciamo Di una mucca lì? È una mucca domestica Che neanche si potrà copiare Cosa ce ne facciamo È carina Vieni 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 Attenta che se nasce Billy Sei pazza L'hai fatta posta L'hai visto come voleva scappare Da te Non è una bella cosa Guarda come voleva scappare Nella registrazione che ho mostrato C'è un punto in cui Billy Entra Ah io avevo ancora vista Questa registrazione ragazzi Perché ha fatto davvero tutto Senza dirvi nulla Io ancora non l'ho vista La vedrò nel video Assieme a voi Cosa succede? Billy mi segue col grano Entra dentro Appena tocca il grano Nel tempo in cui dovevo Chiudere il cinto Corre via velocissimo E arriva dall'altra parte Dell'isola Questo ti dovrebbe far capire Tante cose Che mi ama E come noti Lo vedi che mi sta fissando Sì Sai cosa mi ha appena Bisbigliato nell'orecchio Di salvarlo Perché non ci vuole stare Con te Ascoltami Tu dicevi che è inutile Guarda Ok Cosa me ne faccio Di un secchiello di latte Lo puoi bere Ma lo sono bevuta davvero Era buono E adesso mi verrà mal di pancia Ok No Ok Era buono? No Dai ammettilo Billy sa fare del latte bonito Molto buono Molto fresco Rimetto il secchiello a posto Che è meglio Eh sì È meglio non perderlo È meglio Esatto È meglio Facciamo così Una Due Ok Ti piacerà troppo Preparati Sto pronta Sto pronta Vai La mela Perché è l'icona del mondo Muoviti però Vai Praticamente Io metto Una cesta Qua ti piazzo esteticamente Sì Ok Facciamo così Così E questa sarà la cesta del cibo Oh mio Dio Che carino Stiamo sprecando ancora tutti i materiali per l'estetica Davvero Ho ammazzato una mucca per fare questa cosa Se ne ho perso era terribile però è carinissimo È davvero carinissimo Adesso prendo tutto il cibo Dovremmo farlo anche con le altre ceste Davvero carinissimo Esatto Ne ho un'altra Quindi ne puoi fare un'altra E anche le torce Il secchiello l'ho già preso io E ho preso anche le frecce Ok Le torce Hai preso pure quelle Sì Ok A posto A posto Guarda che bellina adesso Queste mi sa che le lasciamo per i materiali grezzi Tanto ne abbiamo sempre Quindi Oh però la buttaci roba Poi vediamo Anche le frecce A posto Dai sono soddisfatta Sì 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 Mi piace sta cosa Mi piace davvero Sì è carinissimo Vero Billy Sì Con quel sì Non mi stava dimostrando Che ha tanta voglia di vivere Billy Sì Steph È sempre bellissima Grazie Billy È un po' triste Ed è un po' triste Che tu stia parlando da sola In questo Anzi con una mucca Con una mucca Stai parlando con una mucca Con una bellissima mucca Che si chiama Billy Ed è diverso da una mucca normale Sto per buttarti giù dalla piscina Guarda Perché davvero Perché resti tantissima legna Esatto Non ho parole Non ho parole Niente Qua Non cresce Non ne ha voglia Vedo io cosa fare Fammi concentrare Sei pronta? Mhm Allora Mi metto così La osservo bene Questo si chiama Il danzo Il danzo La danza Guarda Dopo che hai preso quella mucca L'hai chiamata Billy Ci parli da solo Sinceramente Ormai non mi sorprendo più di nulla Vai la danza Ok Deve far crescere questa cosa Ok Vediamo Vediamo Oh cresci bene Cresci proprio bene Ci servi Cresciuta Per creare Dei bel libri Vogliamo Dei bel libri Per la prossima Isoletta E non abbiamo Voglia Di aspettare Un'oretta Chiedo scusa Per Per tutto questo Da parte sua Guarda Chi mi deve chiedere Scusa Adesso Eh Rispondimi Secondo me è stato merito Dell'ultima rima Che hai fatto Guarda È stata talmente epica Che la pianta Ha deciso di crescere No guarda Io non Mi sento male Mi sto sentendo male Perché davvero Ti stavo prendendo in giro E spunta davvero Ha funzionato Possiamo dire che ha funzionato Quindi Questo è l'importante Allora Ti prometto che non criticherò mai più Le tue canzoni I tuoi balletti Perché davvero Stavo aspettando due anni Queste canne da zucchero E sono spuntata proprio in quel momento Quindi sì Ha funzionato Ci fermiamo così Prossimo video Appunto Facciamo questa nona missione Mi sa che in totale La Sky Grand È 15 Quindi ci stiamo battendo davvero bene Anche se poi Diventeranno davvero Davvero Già adesso sono molto lunghe Perché guarda Questa non è difficile Però guarda quanto ci vuole Per la canna da zucchero Quindi iniziano ad essere davvero lunghe Ma è bello È bello fare tutte le cose E completare Una missione dopo l'altra Mi sto sempre divertendo A fare questa Anche a me piace davvero Davvero tantissimo Bene ragazzi Vi piace così Se vi piace già Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao ciao